Massimo Giove tende la mano ai tifosi del Taranto, lo fa con un lungo comunicato pubblicato sui canali ufficiali della società tramite il quale informa gli stessi che in vista delle prossime partite casalinghe prima della sosta natalizia verranno applicati ulteriori ribassi ai prezzi dettagliati di tutti i settori. Il presidente riconosce che l'inizio di campionato abbia contribuito a soffocare l'entusiasmo della piazza e generato delusioni ma chiede un importante supporto alla città dopo il pareggio contro il Crotone e soprattutto all'indomani del colpaccio di Pescara. Il club riconosce sempre l'importanza dei tifosi e ne accetta le critiche, si legge nella nota, anche le più dure. Nel corso di queste settimane trascorse, praticamente senza pubblico sugli spalti, si è elaborato duramente senza mai mollare. Auspichiamo che i ragazzi possano riabbracciare il loro compagno più forte, la splendida tifoseria Rosso-Blu. Dopo la pesante sconfitta maturata contro la Gelbison, la maggior parte dei gruppi organizzati annunciò diserzione a oltranza fino a quando l'attuale proprietà fosse rimasta al comando del Taranto. Resta da capire adesso se l'appello di Giove rimarrà inascoltato oppure verrà accolto.